Per alcuni una rievoluzione, per altri un segno di ritorno alla normalità. Il ripristino delle strisce blu e dei parcheggi a pagamento annunciato dal sindaco Cialente è sicuramente una scelta destinata a far discutere. Già perché i 642 staglie a pagamento non interesseranno solo il centro storico ma anche numerose strade attigue, da Via Ale Corrado IV a Via Castello, da Via Pescara a Via Strinella. Arterie stradale dove oggi è impossibile o quasi parcheggiare dopo l'ingresso dei dipendenti negli uffici. Vero, ma è altrettanto vero, che sarà necessario trovare una soluzione per chi in quelle aree lavora o è tornato a vivere. Sicuramente per il sindaco sarà un modo per favorire il ricambio di auto e aiutare il commercio in centro. Non capisco quelli del centro storico del segnamento, in particolare i commercianti. Nel sotto questi posti, come vedrete, non sono al centro storico, sono soprattutto intorno agli attrattori di traffico, quindi il Sennel 88, il Tribunale, altre zone. Perché? Perché sono zone in cui un cittadino non può andare. Se io oggi devo andare a fare una radiografia a Sennel 88, devo andare alla banca, devo andare alla sede della CNA, devo portare il nipotino al controllo del pediatra, eccetera, eccetera. Ma alle 10 e mezza si trova un parcheggio intorno agli 188. Manco a pagarlo, devi andare alla questura e rifare un passaporto, sei perduto, devi arrivare, ma manco alla Coppa, forse alla Coppa il Torione riesce a parcheggiare lì. Allora, come si risolve in tutte le città? Si risolve attraverso le aree a sosta a pagamento e una piccola quota con le aree a disco orario. Previsti anche 41 posti per disabili, 40 a disco orario e 504 liberi e strisce bianche, ma ciò che dovrebbe cambiare radicalmente le abitudini degli aquilani sarà il servizio navetta messo a disposizione dall'AMA. Ovviamente in questa fase sarà sicuramente sperimentale, perché bisogna capire bene la viabilità che può percorrere. Per noi sarebbe la partenza parcheggio di Colle Maggio, percorrenza via Colle Maggio, poi penetrazioni in corso Federico II, via San Bernardino, via Zara, via Castello, Fondare Minosa e di nuovo il giro che riscende per ricongiungersi. È chiaro che tutto questo è un atto dovuto, se così si può dire, da dove si crea un discorso ovviamente di parcheggio a pagamento e bisogna dare un'alternativa a chi ha interesse a venire il centro storico.